Ciao, tifosi bianconeri. Diamo il benvenuto caloroso al nostro canale, lascia il tuo like. Non dimenticatevi di iscrivervi per ricevere quotidianamente le ultime notizie della nostra amata la vecchia signora. Nella finestra di trasferimento precedente, i bianconeri erano legati a un possibile trasferimento di Domenico Berardi al club. Ma la scadenza stabilita dal Sassuolo ha impedito che l'affare si concretizzasse. Domenico Berardi è molto interessato a indossare nuovamente la maglia della Juve. Al momento, il mercato è chiuso, ma a gennaio i bianconeri avranno l'opportunità di portare Berardi a Torino. In un'intervista, Giovanni Carnevali non ha escluso la possibilità di cedere l'attaccante italiano a gennaio. Non escludiamo nulla, potrebbero emergere offerte ancora più importanti. Non so cosa succederà, ma è ovvio che il Sassuolo non ha bisogno di vendere. La Juventus è una grande squadra che non ha subito molti cambiamenti, ha giocatori di qualità e li considero, insieme all'Inter, i favoriti per lo scudetto, ha riconosciuto il direttore del Sassuolo. L'incertezza legge sul futuro di Berardi, e la domanda che lascio a te, fedele tifoso che segue sempre il nostro canale, è, Berardi sarebbe un'eccellente aggiunta per la Juve a gennaio? Condividi la tua opinione nei commenti qui sotto.